benvenuti o bentrovati a quest'ultimo episodio che ho dedicato al fascismo questo sarà molto breve devo dire rispetto agli altri e mi sforzerò di essere più breve possibile parleremo della caduta del fascismo durante la guerra e di quello che è rimasto del fascismo nell'italia post bellica dunque la politica estera di mussolini si era avvicinata a quella di hitler tra il 38 e il 39 tanto è vero che hitler quando inizierà poco prima di iniziare in realtà l'invasione della polonia che fa scoppiare la seconda guerra mondiale aveva stretto il cosiddetto patto d'acciaio cioè una vera e propria alleanza militare con l'italia l'italia però non era pronta e mussolini se lo sapeva non era pronta ad affrontare un una guerra del genere e molti non volevano tra i fascisti stessi non volevano fare una guerra insieme alla germania che era il vecchio avversario della prima guerra mondiale non c'era un'affinità se non quelle tra i due regimi quindi molti erano contrari a questa alleanza a questa politica estera e molti sapevano che l'italia tra i generali e mussolini lo sapeva i suoi ministri che l'italia non era pronta non era adatta quando scoppierà la guerra infatti l'italia non entra non non si schiera rimane neutrale almeno diciamo per i primi mesi per i primi dieci mesi otto mesi quando poi nel 40 hitler inizia l'invasione belgio olanda e bussemburgo e francia i britannici si abbandonano praticamente le sponde della francia a danker che si ritirano lasciando la francia ormai sola pronta a cadere mussolini pensa che questo sia il momento adatto per fare una guerra veloce contro i francesi che ormai sono allo sbaraglio prendersi qualche territorio e così aver fatto la sua parte con il famoso discorso di palazzo venezia in cui incita gli italiani noi in forma di queste dichiarazioni guerra con la promessa vincere vinceremo poi non andò assolutamente così l'italia entra formalmente in guerra contro francia e gran bretagna a cui poi si unirà anche unione sovietica e stati uniti ora l'italia non era preparata e già si era visto nella campagna di etiopia come l'italia fosse militarmente parlando non una potenza adatta aveva avuto difficoltà a fronteggiare l'impero etiope con tutto rispetto per gli etiopi ma che erano naturalmente una potenza una potenza un piccolo regno africano senza grandi tecnologie quindi era lo avevano fatto con anche con grandi torture con mezzi veramente crudeli come gas e guerra chimica ma quello che è più ben più grave che poi mussolini in realtà le campagne che promuove l'italia contro la grecia partendo dalla albania che l'italia aveva invaso poco prima anche qui dello scoppio della guerra facendo partire un contingente per invadere la grecia e che fallisce miseramente anzi i greci combattono rimandano via gli italiani saranno i tedeschi che poi arriveranno invadono e annettono la grecia stessa cosa per la jugoslavia gli italiani da soli non ce la fanno l'italia poi aveva le sue colonie in africa e anche quelle non riesce a difenderle sì inizialmente la campagna d'africa sembra volgere a favore degli dell'asse quindi la germania dell'italia più della germania che dell'italia ricordiamo un grande famoso generale tedesco erwin rommel anzi erwin essendo tedesco la volpe del deserto grande stratega stratega insomma grande generale d'attacco non da difesa lui era bravo ad attaccare un po come napoleone ma a difendere non era molto molto bravo per non parlare di quelli italiani tant'è vero che prima si invasione dell'egitto che era di fatto britannico avviene però poi lentamente arretrano italiani e tedeschi si arriverà allo all'arrivo nel 43 tra il giugno e luglio del 43 l'inizio le fine del giugno all'inizio del luglio del 43 e l'invasione della sicilia prima pantelleria e poi i primi contingenti arrivano anche in sicilia la credibilità di mussolini è a terra tutti sanno che ha sbagliato gliel'avevano detto e deve fare i conti ora con quella che sono state le sue scelte tra il 24 e il 25 luglio del 43 viene indetto anzi la sera del 24 viene indetto un non un raduno scusate una riunione del gran consiglio del fascismo cioè quell'organismo quell'organo che doveva un po regolare di fatto era rappresentava tutti i grandi leader del fascismo mussolini in primis e doveva dare gli indizi generali del governo del partito ma che non veniva convocato ormai da un po di anni viene convocato e viene convocato soprattutto perché c'è un ordine del giorno cioè un argomento da discutere un ordine da approvare proposto da dino grandi uno dei primissimi fascisti e dei grandi leader poi grande avversario di mussolini per quelli mussolini che mussolini temeva sempre ha sempre temuto grandi grandi lo trattava quasi con sufficienza gli dava del tu lo trattava né non gli dava quel decoque diciamo quella quel galateo che si dovrebbe dare non dico al presidente del consiglio ma almeno al duce del fascismo era molto diretto con lui questo ordine del giorno grandi prevede anzi della sera ormai perché la sera viene riunito il consiglio prevedeva che mussolini rinunciasse a tutti i poteri speciali straordinari non previsti dallo statuto albertino cioè dalla costituzione vigente in materia soprattutto della guida delle forze armate e quindi di restituire il suo potere al re alcuni dicevano no duce fallo così il re si assumerà le sue responsabilità ti togliamo da questo peso ma di fatto era una sfiducia nei confronti di mussolini quest'ordine del giorno passa passa con anche l'assenso di grandi fascisti a parte grandi pensiamo a galeazzo ciano che era il genero di mussolini ed era stato ministro degli esteri anche lui avverso alla guerra se si fosse trattato di una guerra lunga come poi si dimostrò quest'ordine del giorno passa il giorno dopo mussolini viene convocato dal re sa bene cosa il re gli chiede anzi cosa gli ordine il re gli ordina a meglio lo rimuove dall'incarico di presidente del consiglio di capo del governo in pratica mussolini non è più il capo del governo al suo posto verrà nominato il generale pietro badoglio che formerà un governo col quale tentare di poi fare la pace perché si verrà pace si arriverà alla resa l'otto settembre il 43 non solo mussolini appena esce viene arrestato non in una macchina normale viene messo in un'ambulanza e trasportato prima all'isola della maddalena se non ricordo male e da lì a poco a sul gran sasso a campo imperatore sarà hitler sarà hitler a volere anche perché dopo l'otto settembre quando l'italia si arrende non solo si arrende ma passa dalla parte degli alleati tanto il fascismo è caduto diciamo così ma i fascisti ci sono ancora e tutte quelle che erano la resistenza i partiti ritornano in italia si forma il cln eccetera poi ne parleremo quando magari parleremo della nascita della repubblica italiana i tedeschi iniziano l'invasione dell'italia e si arriva alla fino prima a roma poi roma viene liberata ma di fatto il nord fino alla fine della guerra il nord italia per due anni quindi resterà in mano ai tedeschi ma non solo i tedeschi non vogliono fare dell'italia una provincia del nord italia una provincia vogliono creare una sorta di repubblica di stato così almeno fantoccio sicuramente ai loro ordine ma almeno uno stato ben organizzato e chi richiamo richiamano mussolini viene liberato da campo imperatore da scorzeni da questo soldato americano non so che grado avesse scorzeni che si prese molto il merito del questo gesto mussolini che in realtà non è che avesse tutta questa voglia di fare un governo e viene portato a milano e poi sul lago di garda a salò in particolar modo che una piccola città sul lago di garda molto ridente dove viene fondata la repubblica sociale italiana c'è una repubblica che andava diciamo dalla toscana in su mettiamola così dove mussolini tenta di riprendere il fascismo delle origini tra l'altro il partito che lui rifonda non si chiama più partito nazionale fascista ma si ha sentito fascista repubblicano è una repubblica e quindi non è anti borghese si vuole riprendere la socializzazione delle industrie cosa che non potrà fare perché di fatto mussolini è in mano ai tedeschi la lenta sconfitta della germania e dei suoi alleati è ormai imminente la repubblica risalò dura meno di due anni quando il 25 aprile data importante del 45 le forze di resistenza guidate poi sostenute dagli eserciti angolo americani entrano a milano gloriosamente per il quale oggi si festeggia la festa della liberazione mussolini tente di scappare in svizzera non ci riesce viene riconosciuto e insieme alla sua amante clara petacci claretta petacci detta la moglie e i figli erano già e diciamo in salvo ma erano morivano di fame in realtà poveretti mussolini verrà fucilato non solo lui e anche claretta petacci è una cosa terribile gli viene fatta e lo dico per senso umano i suoi corpi vengono i corpi vengono esposti a piazzale loreto una piazza al centro di milano appesi a testa in giù dove la gente fece di tutto è ovvio che la gente avrebbe fatto di tutto ora io espongo la mia personale opinione che mussolini dovesse essere ucciso e morire e che non si dovesse fare un processo se non sommario veloce era meglio perché se no il paese si sarebbe spaccato ma esporre mussolini alla pubblica piazza contro ogni forma di non dico di dignità umana non dico di rispetto perché magari mussolini rispetto non lo meritava lui magari no claretta petacci che non c'entrava niente poverina potevano risparmiare ma almeno per la dignità umana per quanto mostro possa essere uno appenderlo a testa in giù svestito dove la gente ne mutilò in parte il corpo sputando urinando addosso quello fu veramente una vergogna di cui ancora molti di destra e soprattutto di sinistra si pentono il fascismo quindi finisce tant'è che molti di destra molti ex fascisti dissero è strana questo che da un giorno gli italiani erano tutti fascisti tutti vive il dulce il giorno dopo non c'era più alcun fascista in italia e un po il carattere degli italiani non è vero che tutti erano fascisti e non è vero che poi tutti furono antifascisti tant'è vero che pochi anni dopo la nascita della repubblica nacque un movimento un partito che si chiamava movimento sociale italiano che era un movimento post fascista in pratica erano molti reduci tra cui giorgio al mirante uno degli storici leader che era stato sottosegretario al ministro della cultura popolare nella repubblica sociale arturo michelini de marsianic junio valerio borghese alcuni ex militari ex generali in congedo in italia ci fu quindi una ripresa del fascismo da questo movimento sociale che sarà sempre un partito che sarà tra il 6 8 9 per cento di voti continuò a vivere fu un partito sempre messo all'angolo il fascismo anche perché i partiti in italia erano bene o male bene o male tutti antifascisti dalla democrazia cristiana al partito comunista naturalmente nella repubblica italiana da questo nascerà poi alleanza nazionale il movimento sociale entrerà nel governo di fatto nel primo governo berlusconi nel 94 ma già l'idea del fascismo era ormai abbandonata tant'è che di lì a poco si chiamerà alleanza nazionale che abbandonava il fascismo ed era un partito ormai anzi scusate il movimento sociale più che post fascista era neofascista cioè cercava una nuova forma di imporsi nella democrazia nella repubblica come più o meno nella democrazia come in quello che era l'esempio fascista alleanza nazionale sarà già post fascismo cioè abbandonare il fascismo e andare alla destra nuova europea fino a poi pdl popolo della libertà fusione tra fratelli forze italia e alleanza nazionale sempre con berlusconi benché questa destra di alleanza nazionale guidata da gianfranco fini oggi praticamente dimenticato ma che fu anche presidente della camera dei deputati e da cui poi nascerà fratelli d'italia che oggi il partito di governo di giorgia meloni è un lungo filo che collega il partito fascista a fratelli d'italia sì ma con grandi cambiamenti grandi anche grandi tagli grandi abbandoni al passato il fascismo è rimasto come fenomeno di costume quando si vede qualcuno che tiene il braccio alzato che si atteggia motteggiando mussolini magari più delle volte non sa neanche cosa voglia dire fascismo come ho detto è un fenomeno psicologico che è rimasto nella mente dei nonni dei genitori poi c'è qualcuno che realmente si ritiene fascista il movimento fascista il movimento sociale italiano era molto presente per esempio nell'esercito nella polizia perché professava di più quell'idea dell'ordine della disciplina della gerarchia non che tutti fossero fascisti ma non vuol dire o che avessero tutto il mito di mussolini e oggi la destra fascista oggi parlare di fascismo si può parlare di atteggiamenti fascisti di caratteristiche fasciste che si possono ritrovare anche a sinistra questo non va escluso assolutamente cioè di quella violenza nei modi nei toni dell'assoluta mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario politico e delle idee altrui del tentativo di privare della libertà di parola di espressione e anche di un certo qual modo possiamo dire di alcuni elementi che non sono esclusivi del fascismo c'è l'idea della patria del nazionalismo o anche del patriottismo che è di può essere di per sé l'idea dell'amore verso il proprio paese non è necessariamente una cosa da fascisti l'idea delle ragioni radici cristiane delle radici anche della famiglia più un atteggiamento che sia anche nei anche in chi è un cattolico e che avevano altri partiti per esempio come la democrazia cristiana che di tutto e tutto era tranne che fascista ma aveva l'idea del paese della famiglia del lavoro tutto questo è una cosa che si può ritrovare quindi facciamo ben attenzione però a usare il termine fascismo nell'italia nel mondo di oggi il fascismo è finito non ci sono più i requisiti perché un movimento fascista come quello di allora possa emergere semmai si possono trovare nuovi termini neofascismo ma anche quello nuovi termini non so si inventino non lo so ora che possono essere altrettanto pericolosi ma usare il fascismo che è una cosa seria molto seria come arma anche per le stupidaggini non fa altro che togliere di quell'elemento che fu un crimine nella nostra italia democratica che è ovviamente incompatibile e per la nostra storia per chi crede nei valori della democrazia delle libertà per chi è di destra e di sinistra ma crede in questi valori è una forma non solo di mancanza di rispetto per chi ha lottato contro il fascismo ma anche per chi ha lottato per il fascismo perché anche quelli lottavano per le loro idee sbagliate per quanto mi riguarda ma lottavano per le loro idee ma è un grande senso di come dire totale ignoranza prima di tutto ma anche di mancanza di rispetto per la storia per il passato per il presente perché questo vuol dire che non si hanno idee e quindi si prendono idee del passato sia chi li attacca sia chi li riprende quindi bisogna fare attenzione il fascismo fu un'esperienza ma questo non vuol dire che non si possano ripetere fenomeni analoghi quindi questo dobbiamo impararlo bene ma dobbiamo anche distaccarsi dal passato e fare attenzione invece a quello che succede nel presente comunque detto questo io spero che questa ideate vi siano piaciute vi spero di continuare che il canale sia attivo e penso che farò altri video su altri argomenti vedremo quali vi consulterò magari o qui su questi commenti ai quali vi invito di intervenire se ci fossero domande curiosità o appunti che volete farmi o critiche ancora meglio di lasciare un like di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati e vi do appuntamento al prossimo video e grazie per l'attenzione